Il polo scolastico San Giuseppe nell'area dell'ex stadio di Teramo è la priorità che il comune di Teramo ha segnalato al commissario Errani. Sì, noi abbiamo dovuto segnalare una serie di priorità sulle scuole inagibili, che sappiamo erano la Savini, la San Giuseppe, Villa Ripa, Via Tevere e Via Tevere. Fra queste la priorità è stata data al polo della San Giuseppe. Questo non vuol dire che le altre non verranno finanziate, le altre opere verranno finanziate e in particolare il polo ad Alessandro verrà comunque finanziato in piani di finanziamento successivi, così come verrà finanziato anche la scuola di Villa Ripa, che abbiamo lasciato a scuola, quindi Villa Ripa manterrà la sua scuola materna. Ci tengo a sottolineare, era stata una richiesta dei cittadini, io dico che oggi nelle frazioni bisogna, per far sì che continuino a vivere, bisogna dargli quelli che sono i servizi essenziali. Via Tevere il discorso è diverso, non sarà più scuola, ma sarà invece un edificio per attività sociali. Sindaco, attraverso anche una piantina ci spieghi dove nascerà questo polo scolastico? Nascerà proprio al posto del vecchio stadio oppure no? Allora, noi abbiamo già, partiamo già da un finanziamento di 16 milioni di euro che è il bando delle periferie, col bando delle periferie noi andremo a riqualificare tutto l'area del vecchio stadio, manterremo la curva este, ci sarà, diciamo, sarà mantenuto a parco urbano, quindi avremo un parco urbano con orti urbani. E' chiaro che il progetto cosa prevede? Prevede innanzitutto che la scuola primaria e dell'infanzia della San Giuseppe venga adeguata da un punto di vista sismico, quindi verrà, tornerà ad essere scuola elementare e scuola dell'infanzia, però adeguata da un punto di vista sismico, quindi totalmente antisismica. E questo, diciamo, per circa 350 posti. Poi in questa, diciamo, questa stecca che in pratica per intenderci si trova in corrispondenza della vecchia tribuna dello stadio, dove doveva sorgere una sorta di bike hotel, invece ci saranno tre piani, tre piani di, diciamo, l'edificio di tre piani, e in questi tre piani ci saranno 600 posti per la scuola media, che per intenderci erano i posti che aveva la Savini. Quindi avremo un polo che, diciamo, sarà spalmato su quest'area, con un gran tanto verde, quindi un parco urbano, quindi i ragazzi avranno anche la possibilità di utilizzare questo parco urbano, con la tribuna che resta, e quindi questo sarà una sorta di teatro naturale all'aperto, dove si potranno fare spettacoli con il recupero. Qui si esorgerà una palestra di circa 600 metri quadrati, teniamo conto che qui abbiamo anche la Casa dello Sport, che comunque verrà recuperata e resterà palestra, e qui ci sarà una mensa. Insomma, davvero un bel polo scolastico all'interno dell'area del vecchio stadio. Io giovedì sarò a Roma per un appuntamento con Errani e andò a presentare al Presidente stesso, Presidente Errani in persona, questo nostro progetto, e sono certo che il Presidente Errani apprezzerà.